La diacola del Sanile è gentilmente offerta dalle potenze superiori Alla mia destra, Vampiretto! Davanti a me, all'uncillone E alla mia sinistra, questo polecomo che si chiama Vito Piunchini Ma di un ruolo per noi, vogliamo parlare? Ma questa è sempre quella tradizione che si chiama... Buongiorno Cagliari! Buongiorno! Buongiorno! E non c'è una bomba! Esatto! Quanto probabilmente! Allora, da qualche parte c'è il 339-25-09-910 Fai l'annuncio tipo Fiera Si è perso il piccolo 339 I genitori possono venire a rigirarlo e a rotamarlo presso lo stand internazionale Ecco, è stato ritrovato il 339-25-09-910 Grazie! Adesso si sta svegliando Tone, si sta svegliando anche il 339 Riprenditi la prima lettera di... Riprenditi la prima lettera di... Riprenditi la prima lettera di... ISSO FUANA E questo è... È così... E poi c'è il centЖardelle Signore, guardate la meraviglia...! La mia figlia! La mia figlia di questa cosa! La somma che è libero, non c'erresti il pesciolino adorata! Ma lì c'è la mangiusca, lì c'è la mangiusca, io andrei con secondo ordine! La mia figlia è un sesto live, è un sesto live questo! Ti rendi conto? Sto a me passano gli amici, vorrei mettere i bollini e le tessere! Tessere non è mai male! Ma canti qua a pausa ci scrive! Lei non è sicuramente un po' zappus! E' anche se questi vogliono cantare, si prego da collo! Non è che c'è il panettone da collo! Ma collo a collo! Ma collo a collo! Buongiorno amici, ho preso il cappello la domenica con voi, nonostante la sveglia, la CAF con Cugli di CAF e coniuge! E' la festa della famiglia, signora Gina! Che bella la famiglia, nelle sue varie forme! La famiglia che un tempo si rappresentava come un quadro realistico ha preso delle forme astratte! Siamo arrivati all'informale! La famiglia è bella, uno è uscito, manco dei figli in settore! C'è un rapporto realistico che dice che in Italia uno su dieci è nato fuori dal matrimonio! Però dopo ho portato ognuno che si presenta e stanno con gli ultimi comuni e dicendo facciamo tutto per la famiglia! E il matrimonio è burro! A presto! E tutto nemmeno! Non si capisce del tutto, ma si intuisce il senso. Ci scrivono amici, che bello vedervi da vivo, non da morti. Buongiorno a tutti da Kekka. Grazie, grazie a te. Bilanciini presenti, che sono felicissimi di essere qui e vi salutano. Buongiorno da Bilancia Guasta, grazie a te. Ci scrivono, ma Fede dico che ha sei mesi di guarda sbalordito, tutto di acilla, mischini, che che consorte, niente ti tocca, 339. Allora, attenzione, attenzione, proprio tipo i Piranti dei Caraibi, vedete cosa sono? Allora, bomboniera, sequestrata al banchetto di nozze del consigliere Sanzius, contenente le prove del reato di peculato. Buongiorno a tutti da Biondantica di nuovo a live. Eccola di. E ancora, pare che al rientro dalle vacanze, i giochi saranno fatti, ho letto che entro il 3 gennaio si dovranno depositare le liste. Che sorprese riserva il 2014, dice Pistis. Dipende da dove le depositi. Chi vuole si scrivono a te o a loro quando ci dà sposti di depositare. Elio, ma quest'anno fai lo strip-tease come due anni fa, la fiera, ride mamma tigra, no, anche buongustai, buongustai, siete dei buongustai, sotto sotto, ma siete dei buongustai. Non c'è pagare, eh? Questa è una sede, cioè qui si amministra la legge, non è che si vede, gioca in via, ci ciò con l'auto, rinvenuto sotto il tappetino dell'auto del consigliere Pietrini. Ed è in ritardo, soprattutto. Avevate giocato il magrano. Noi con quello che abbiamo detto e disposto non possiamo dire microfone, ma questo valga come devo postare. Noi con quello che abbiamo detto, Noi con quello che abbiamo detto, All'attimo 13 del TPR numero 25 guardate 1979 mi è scritto che a qualsiasi organizzazione che intende esercitare un pubblico spettacolo in una zona in cui ci sia sufficiente fango tra il parcheggio. Può portarsi via io da casa se non la scarpa entra nella categoria per geologi da rogno. Questo però conflige con la norma del presidente dispositivo legislativo che proviene dalla norma nazionale e non lo scogeo. Non è nessun pubblico spettacolo. Noi con il questo compagno è folle! Noi con il questo compagno non è retta, Alfonso, ma chi sarà questo Alfonso? Beh, se non lo conosce evidentemente nella stessa collana foridica, Alfonso è un grande lettore di Le Pante. Non mi tocci, siccome mi vicherà male. Quindi quest'anno penso che lo passerò tra via Serucci e via Balfidano. C'è proprio una serie di iniziative molto glamour. Non avevo mai scritto prima, ma visto che Aspide ci viene, lo faccio. Aspersorio. Aspersorio? Ah, lo facciamo, un applauso, come la Vampiretto, io lo amo senza di lui, non ha senso. Buongiorno Cagliari, non che coma, ci scrive. Va bene. E con questo applauso cubano, in onore di Vampiretto, si chiude questo speciale like natalizio di Buongiorno Cagliari. Grazie a tutti ragazzi, grazie per quello che mi ha portato, grazie per essere citati, per quello che avete iscrivito. Grazie a tutti, 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 grazie a tutti. Grazie a tutti.